È un grande piacere oggi come Rina presentare nel contesto della Geneship Week il risultato di uno studio che è stato portato avanti avendo Rina come capofila all'interno dei comitati di decarbonizzazione che sono istituiti proprio all'interno della della mia società, per presentare questo studio che è stato sviluppato con il contributo di tantissimi stakeholder del mondo dello shipping italiano, al fine di dare la possibilità e avere a disposizione un documento semplice che potesse fare una fotografia dello stato dell'arte di quelle che sono le soluzioni e le tecnologie a disposizione per lo shipping per poter raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e identificare quali possono essere quelle attuali oppure di sviluppo nel medio e lungo termine. Proprio al fine di posizionare lo shipping italiano all'interno di questo contesto e l'outcome è chiaramente quello che lo shipping italiano sta facendo moltissimo, è già molto virtuoso nel provare, nel investire in nuove tecnologie sia se si tratta di piccole realtà che grandi gruppi armatoriali e questo chiaramente è un ottimo segnale perché significa che lo shipping fa parte di questa sfida per raggiungere la neutralità climatica e lo sta facendo cercando di essere anche da traino per altri settori industriali hard to abate. E quindi questo è molto importante e soprattutto il concetto importante che traspare proprio dal fatto che tantissimi tantissimi partner hanno collaborato è quello che per raggiungere questi obiettivi ambiziosi è fondamentale lavorare in concerto perché dobbiamo affrontare non solo dei limiti di disponibilità tecnologica, di costi ma anche di incertezza dal punto di vista regolamentare. Abbiamo degli target di decarbonizzazione e di neutralità climatica molto ambiziosi, sappiamo essere net zero per il 2050, abbiamo delle ambizioni per poter raggiungere questi obiettivi ma dobbiamo poi mettere in pratica le misure per poterlo fare e nonostante abbiamo degli impianti regolamentari ben definiti come target e come misure a livello europeo e a livello internazionale, metterlo poi in pratica purtroppo è ancora critico perché non c'è chiarezza in determinate implementazioni e c'è il rischio talvolta che anche da diverse bandiere possano venire implementate o capite in modo diverso. Quindi di nuovo fondamentale lavorare tutti insieme, l'obiettivo comune c'è la volontà di raggiungerlo, lo dobbiamo fare con regole chiare mettendo da fattore comune le nostre competenze e la nostra possibilità di rendere lo shipping davvero un settore virtuoso.